Grazie a tutti. Leonardo, uno, grazie. Borschi, Francesco, uno, grazie. Ceccarelli, Emanuele, tre, grazie. Il primo torneo, talenti in rete. Le squadre che si vanno ad affrontare sono l'Atletica Giglia e i Viti Urbani. C'è il tempo Francesco, dai! Dai Flavio! Buona! Gioca Cristian, non scappare Flavio, non scappare da là! Daniele, ci passiamo a prendere questa palla? Alessandro stringi che adesso ci troviamo. Sull'otto, Ale, stringi, Ale! Stringi, abbassati! Ok, adesso parti per Andrea, dai, dai, dai Andrea! Buona Andrea, tocca Andrea! Prendi questa palla, prendi questa palla! Ancora, Andrea, non teniamo tanto l'unico! E' a posto tu? Vai io! Tu a Stefan! Centrale Stefan! Centrale! Centrale! Che succede? Che succede ragazzi? E' sufficiente un campo di terra per far saltare tutti quanti gli equilibri, gli schemi? Eh, non credo! La palla rimbalza regolare? No! Allora, un pizzico di attenzione più! Non bisogna aver fretta! Non abbiate fretta nello scaricare il pallone! Cerchiamo di giocarlo! Il momento era difficile, anche perché i contropiedi nostri erano semplicemente questi! Andrea, ti abbiamo chiamato in tre, su quel contropiede che stava in fuori gioco e tu continuavi a correre! Cioè, guardalo! Lo so, stava in fuori gioco! Abbiamo capito che tu te ne sei accorto! Andrea che non se ne era accorto! In tre ti abbiamo chiamato, sentici, te lo diciamo perché tu non lo puoi vedere! Tu sei ferma? Siete in tre, siamo tre matti eh! Allora, partiamo subito con Verocco in porta! Poi Perugini che si mette in basso a destra! Paoloni si mette in basso a sinistra! In mezzo al campo si mettono, non so, due Menigasci! Aiuti che parte subito a destra! Cericola a sinistra! Salto Vito e Matetto, i due davanti! La Monarca! Maniele, uno, grazie! Taglione! Emaniele, tre, grazie! Emaniele! Emaniele, un ho un altro scatto! Noi! Vediamo il Lugol! Maia! Luca, un lugo! Dai, fate! Dolly, ommeno! Dai, dally, ommeno! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Muavi questa palla che arriva, muavi questa palla che arriva! Non la portare! Il là già tu! Tià, 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 tià. Eccolo che è! Tià, ti, 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 ti! Ti, 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 ti! Ti, 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 ti. Don't forget me, I think I'll remember Cosenta, vai da là, ti metti stretto, stretto Ah non caglia, dici da sta stretta a quello, non caglia Non caglia Ok ti metti, so se tu metti Ok ti metti, adesso son da più Tanto è un po' di campagne Questa è un po' di campagne Non caglia Non caglia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.